Il tempo degli alibi è finito, ora è il momento del fare. Nicola Irto, presidente del Consiglio della Regione Calabria, ha aperto così il dibattito che l'ha visto protagonista ieri sera a Diamante in occasione della manifestazione Incontri di fine estate. Nell'ambito dell'iniziativa si sono susseguiti una serie di incontri con importanti personalità della politica, della cultura, della Chiesa e del giornalismo. A fare gli onori di casa ieri sera l'assessore al turismo del Comune di Diamante, Franco Maiolino, e il segretario calabrese del Partito Democratico, Ernesto Magorno. Questa sera è una presenza prestigiosissima, il presidente del Consiglio regionale rappresenta una notevole novità per la nostra Regione, è il presidente del Consiglio regionale più giovane d'Italia, mi pare che per la prima volta abbiamo un primato in positivo, cioè le nuove generazioni che diventano classe dirigente della nostra Regione. Quindi il tandem Oliverio-Irto può produrre alla Calabria quella novità di cui la nostra Regione ha bisogno. Questa sera fa parte di un pacchetto di dibattito politico-culturale che abbiamo voluto fare, lo stiamo facendo da alcuni anni a fine estate, per fare di Diamante un salotto dove viene fuori qualche proposta, qualche provocazione. C'è grande attenzione mediatica per lo spessore degli ospiti che abbiamo avuto. Irto nel suo intervento ha parlato della questione meridionale in generale e di quella calabrese in particolare, sottolineando come l'amministrazione regionale dopo otto mesi in cui si è lavorato per arginare le macerie lasciate dal governo Scopelliti, ora non può più permettersi di perdere tempo. La prima occasione è quella del Consiglio regionale di oggi, tra i temi all'ordine del giorno, la programmazione comunitaria 2014-2017. Una cosa è certa, condivido con il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, il Sud può ripartire, la Calabria può ripartire solo se c'è un progetto che parte dal Sud e con un'idea dal Sud e deve finire il meccanismo, il tempo del cappello in mano a Roma a chiedere una singola cosa. La classe dirigente calabrese deve avere un'idea di sviluppo di questa terra e proporla e rilanciarla al governo nazionale, solo così ce la possiamo fare. E poi per il resto c'è bisogno di un'inversione di tendenza nelle politiche regionali, noi discuteremo del POR 2014-2020 finalmente in Consiglio regionale, quindi non rimarrà una cosa nel chiuso delle stanze della Regione, ma sarà una discussione in Consiglio regionale aperta davanti ai calabresi, davanti agli organi di stampa e in cui si potrà discutere su quale sarà e come sarà la prossima programmazione comunitaria che è l'ultima occasione utile per questa Regione di avere un aiuto economico forte che può essere volano di sviluppo. Da oggi la responsabilità è nostra, se falliremo abbiamo fallito noi, se faremo bene avrà vinto la Calabria e noi avremo un pezzetto di merito di essere riusciti a incidere nello sviluppo di questo territorio. Stasera l'ultimo appuntamento degli incontri di fine estate dal titolo L'impegno sociale dei cattolici per il Sud, al quale prenderanno parte Monsignor Salvatore Nunn, rivescovo emerito della diocesi di Consenza Bisignano e il deputato Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldomoro.